Beni mobili e immobili per circa 400.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria ad un commercialista di Rosarno ritenuto in rapporti con la cosca d'Indrangheta dei Pesce. Il provvedimento è stato messo dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia che ha coordinato l'attività. La figura criminale del professionista era emersa da ultimo nell'ambito dell'operazione denominata Pecunia Olet nei confronti della cosca. In particolare l'attività investigativa ha consentito di far emergere un accordo che avrebbe consentito al clan Pesce di gestire l'indotto della grande distribuzione alimentare e del trasporto merci su gomma. Il tutto con il supporto del commercialista che ne avrebbe curato gli aspetti tecnici ponendo a disposizione le proprie competenze in materia contabile, societaria e fiscale al fine di favorire gli interessi economici della cosca e nel contempo evitare che i patrimoni imprenditoriali fossero aggrediti da iniziative giudiziarie. In tale contesto il professionista è stato rinviato a giudizio per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa e concorso in estorsione aggravato dal metodo mafioso.